Dal governo noi stiamo aspettando innanzitutto un contributo di 60 milioni che andrà a sostituire il contributo precedentemente previsto dalla provincia, le province di fatto non funzionano più e quindi abbiamo questa necessità. Poi per il resto mi pare che nell'ultima fase il governo ci sia stato molto vicino e quindi devo dire che anche usando il semestre europeo il Presidente del Consiglio ha annunciato che il 16 di novembre ci sarà con l'ASE, ma Milano inviterà tutti i capi di Stato europei ed asiatici a vedere il sito, i lavori, lui ci sarà ancora, insomma c'è in questo momento una grande vicinanza.